Eh si eh? Dovete fare anche un bel sorriso. Eh, quello è difficile. Perchè? No. Perchè è difficile? Eh perchè non ci riesco. E noi insomma facciamo come dicevano la in Inghilterra CHEES! Dicono CHEES! O mi sbaglio? Non so. Eh perchè non lo so perchè io, cara. Guarda, guarda come si lascia coccolare. Dica sì. Ah si? Sì. Ah, mica.